un saluto a tutti i nostri amici internauti siamo in compagnia di antonio sacco ideatore di una iniziativa per la quale siamo alla quarta edizione che si chiama nel nome di maria antonio diciamo nel mese di maggio sembrerebbe quasi un'iniziativa per la madonna però è un'iniziativa un po particolare come nasce innanzitutto grazie per avermi ospitato in questo vostro spazio e direi anche un ringraziamento particolare a voi che avete espresso la volontà di approfondire questo questo tema perché nasce da un'amicizia da un atto d'amore da una direi un gesto a mio avviso straordinario che mi ha toccato direttamente con la partecipazione delle persone che hanno avuto che hanno avuto questa questo vissuto qualche qualche anno fa e che hanno determinato poi la mia scelta di pensare a un'iniziativa proprio chiamata nel nome di maria poi tutto sembra casuale ma non lo è perché comunque ricordiamolo maggio mese mariano quindi di per sé c'è anche oltre la madonna c'è anche il ricordare la festa della mamma tutto questo ovviamente per ricondurci a quello che poi è questa idea di di ricordare maria nel modo più semplice con la memoria appunto di questo gesto di amore di una mamma qualche qualche anno fa nei confronti del del proprio figlio ecco questa mamma che cosa avrebbe fatto era incinta no questa mamma ha scelto poi diciamo che la scelta è padre e madre insieme papà e mamma che scelgono di diventare genitori pur sapendo che poi lei veniva a mancare quindi l'allora il coraggio della scelta pensando alla vita quindi da lì questa madre decida appunto di di far nascere il proprio figlio e insieme crescerlo fino a quando poi la vita è andata via nel senso si sapeva già diciamo già prima del concepimento sapevano che avrebbero questo rischio era un rischio poi tu hai da buon giornalista quale tu sei hai già approfondito il tema e sai di quale malattia abbiamo abbiamo parlato e poi va per questo bambino quindi è nato e questa diciamo questa donna il cui nome era maria 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 e c'è una ci vedo una adesso qui vedo l'affresco del manenti in cui c'è la fuga in egitto di giuseppe con il suo somaro e maria col bambino c'è sicuramente una una analogia con la vita della madonna diciamo nel senso che maria la madre di gesù sapeva che questo figlio diciamo non era suo in questo caso invece la signora sapeva che il figlio era suo però non avrebbe potuto diciamo così seguirlo nelle varie tappe della vita viverlo vivere vivere con il figlio crescerlo io ti potrei dire se non fossi diciamo cattolico ti potrei dire ma non è in qualche modo un rischio e una scelta troppo dura uno potrebbe dire è una scelta troppo dura in fondo uno avrebbe potuto dire vabbè se uno aveva una malattia magari adottava un figlio ma è una persona lo stesso uno potrebbe dire questo perché sapere di morire un conto uno potrebbe dire lasciamo stare se ci fosse stato il concepimento e uno viene a saperlo dopo dopo il concepimento viene a sapere che potrebbe morire o che morirà sicuramente ma prima addirittura del concepimento sembrerebbe quasi un azzardo ecco ti faccio questa provocazione apprezzo accetto la tua provocazione invece io ci vedo un grande atto d'amore bellissima secondo me poi è vero c'è il risvolto negativo ne siamo consapevoli anzi l'abbiamo anche vissuto però in questa fase dove una società prettamente egoista e dove spesso la vita viene un po' banalizzata secondo me con gesti anche direi abbastanza superficiali questo invece è un atto straordinario e io direi di grande rispetto perché si vuole dimostrare nella continuazione della vita la propria esistenza quindi i due genitori responsabilmente decidono di affrontare questo questa questa questo con questa scelta un percorso fino sapendo fin da subito qual era la continuazione o la fine la continuazione perché c'è il figlio e quindi questo è l'atto straordinario che io non ci vedo nulla di ci vedo molto ma non c'è nulla di lontano da quello che sono gli altri gli altri esempi che noi abbiamo nella chiesa nella regione cattolica ma questo non è che vogliamo entrare in questo noi stiamo nella fase fuori cioè ragionando e pensando a due genitori che insieme decidono di continuare insieme perché è insieme con poi una testimonianza vivente che il figlio immaginate poi tutta la tragedia umana tutte le sofferenze difficoltà è qui il grande il grande gesto che noi in questa fase dobbiamo difenderlo secondo me ricordarlo perché deve essere una memoria ma una memoria propositiva che dia l'esempio giusto anche perché considera che ogni volta che noi l'8 maggio ricordiamo questo giorno lo ricordiamo anche con questa iniziativa con questa iniziativa molto semplice molto anche silenziosa per certi aspetti e noi vediamo il bambino che cresce e lui è con noi e quindi anche lì subentra un aspetto importante forse c'è anche un punto d'incontro un punto d'incontro in quel giorno dove lui è lì sapendo che quello è una giornata dedicata a questo gesto a questo atto d'amore che è lui e lui è il frutto questo è un grande momento di amore di umanità perché è anche in una fase in cui effettivamente siamo tutti siamo sinceri molto egoisti molto chiusi in noi stessi cerchiamo di non socializzare di non condividere anche se questo è il periodo in cui tutti vogliamo condividere ma a mio avviso è solamente una schermata che abbiamo per dimostrare che forse siamo molto più soli di prima ecco su questo dobbiamo per un attimo umanizzare il gesto e loro due ci sono riusciti non è facile è molto interessante non è facile molto molto sì diciamo che è un atto eroico è un atto eroico con un forte valore diciamo non solo simbolico ma pratico ma tu hai provocato giustamente la conversazione tutti oggi avrebbero detto vabbè io vivo egoista ad otto a distanza che so cinque bambini anche dal cinque dieci io ipotizzo la distanza non avendo a distanza perché poi subentra anche forse la voglia di dare più sostegno a più bambini no loro hanno pensato al contrario è questa la grande la grande il grande atto d'amore sicuramente molto ecco perché dico cioè quando lo racconto in una fase dove noi viviamo e ripeto una parola che dà anche un pochino timore egoismo cioè noi siamo prettamente egoisti vedere questo gesto ti rende ancora più bella di per sé la vita vista in questo modo in quest'ottica e non per niente bisogna essere necessariamente a iper religiosi questo io voglio dire facciamo bene a pensarlo anche però loro in quella fase hanno deciso così e sono stati tutti d'accordo una cosa bella una cosa che ancora mia mi rende ancora più partecipativo quando lo racconto che tutte le tutte le due famiglie di entrambi sono stati d'accordo senti veniamo a parlare è una cosa che mi mi colpisce molto questa veniamo a parlare dell'iniziativa dell'8 maggio perché hai talmente tanti esempi di non altruismo che ascoltare un gesto di questo tipo in una fase dove la concedudine ci porta a dire vabbè adottiamo no questa l'hai detto tu perché fare questo e invece lì c'è vita secondo me il mio punto di vista è questo la dimostrazione di quando uno si dice voglio donare la propria vita per un'altra vita ed è questo il gesto più bello più nobile secondo me e bisogna tutelarlo e rispettarlo sì sì senz'altro che cosa prevede l'iniziativa di quest'anno noi come ogni anno organizziamo insomma un momento di musica e poesia di parole e musica all'auditore un varrone in maniera anche molto silenziosa cercando di fare come dire una partecipazione condivisa con con tutti coloro che hanno la voglia di esserci quindi inviteremo ovviamente tutti i familiari e poi ognuno verrà spontaneamente perché abbiamo deciso di ogni anno creare quel quell'ambiente che capisca l'importanza di questo ricordo di Maria poi emerge tutto poi ci sono delle testimonianze di altre persone che al tempo stesso anche loro hanno avuto una Maria che ha prestato amore durante la sua vita forse non con questo atto ma con altri atti con altri gesti e in più la bellezza di questa iniziativa è che in questa in questa in questa occasione ricordiamo anche la mamma perché l'otto maggio comunque è la festa della mamma poi è vero la società così consumistica come la vediamo ha spostato un po' l'otto maggio come la prima domenica utile per festeggiarla però di per sé nasce l'otto di maggio perché è il mese mariano e poi perché l'otto di maggio è anche la festa della madonna quindi di per sé rientra un po' nell'ottica di pensare alla mamma e quindi in questa giornata in questa serata riproporremo musiche dedicate al nome di Maria riarrangiate riproposte anche in chiave più leggera e non solo e dei racconti e delle poesie ovviamente grazie anche a chi parteciperà in questa quarta edizione ecco a che ora c'è questa 21 alle ore 21 dell'otto maggio del 2014 all'auditorium Varrone c'è questa manifestazione nel nome di Maria che è dedicata appunto a questa persona che ha fatto questo atto eroico diciamo molto molto importante e mi ha toccato perché la conoscevo ma non in maniera così approfondita era molto più generica diciamo perché me ne avevi già parlato anche nel passato insomma però in maniera così più puntuale non la conoscevo però ti volevo fare un'ultima domanda abbiamo parlato del nesso tra la madonna e questi gesti una tua considerazione essendo tu un maschio diciamo una considerazione sulla capacità diciamo della mamma delle donne in generale di donare in maniera così eccedente una donazione le donne sono capaci di questa donazione eccedente rispetto invece al maschio secondo me che è più anche più razionale meno viscerale sotto questo aspetto è capace solo la donna di fare queste cose in questo esempio abbiamo visto che c'è anche l'uomo che c'è il padre di famiglia che decide lo stesso con la madre con la mamma di condividere una scelta quindi la condivisione anche qui emerge l'aspetto non egoistico del maschio lì c'è anche un altro momento importante cioè quando la coppia è coppia è coppia non solamente perché si vuole avere un bambino ma perché si vuole condividere una scelta e quindi è qui l'altra fase che è straordinaria infatti anche questo è un passaggio io lo guardo con molto rispetto e poi gli uomini sono cambiati in questa fase cioè non è più l'uomo egoista che noi ci ricordiamo cioè l'aspetto anche società dove c'era il padre come perno fondamentale della famiglia e la madre che era all'interno della famiglia come amministratrice di tutto quanto si cambia molto nei ruoli forse per certi aspetti il maschio sta diventando più vicino alle sensibilità della donna cosa che prima non c'erano anche qui nella scelta viene fuori da un grande spiccato senso di condivisione che è fondamentale quindi in questa fase vedo un maschio diverso molto più umanizzato non come dire il padrone di casa e anche qui è fondamentale tu pensa che lui oggi parlando di padre quindi parlando di maschio e con questo l'esempio lui è anche madre quindi deve essere lui che riesce nella sua difficoltà di uomo a parlare a un figlio che cerca la madre ma che sa perfettamente che nel cercarla non la troverà e quindi il papà deve in questa fase avere due ruoli padre e madre al tempo stesso quindi immagina anche lì la responsabilità la fatica quotidiana del colloquiare con un figlio che comincerà e ha già cominciato a domandarti a chiedere a cercare quindi anche lì le risposte come darle ecco come è cambiato il maschio non erano come gli uomini del precedente secolo che avevano un altro tipo di sensibilità forse avevano una fatica nel fare le cose ma farle per il bene della famiglia ma non riuscivano a dimostrarlo e a mostrarlo questo secolo ci dimostra invece un maschio diverso che deve comunque faticare ma al tempo stesso dimostrare che è una fatica con un certo tipo di sensibilità molto interessante questa cosa speriamo che ci siano molti spettatori alla manifestazione io vi invito a partecipare perché penso sia bellissimo starci esserci insomma in questa fase dove le parole, le note si misceleranno in questa giornata però noi l'abbiamo pensata per non avere il cosiddetto flusso popolare dove dobbiamo arricchire la platea noi dobbiamo arricchire gli animi, le menti, le persone che hanno capito che è un giorno per continuare a pensare sempre in positivo con una speranza che è questa la memoria di questa persona che è stata a mio modo straordinaria grazie ad Antonio Sacco a questa bella manifestazione nel nome di Maria dell'8 maggio prossimo alle ore 21 all'Auditorium Barrone grazie a tutti i nostri spettatori grazie a voi e vi aspetto